Un ringraziamento ad avviso pubblico per tutto il lavoro che sta svolgendo a difesa della legalità, della democrazia, a difesa soprattutto della buona politica e della buona amministrazione. In questo caso un saluto e un ringraziamento per la promozione culturale, per la promozione della cultura contro le mafie che si realizza in questi giorni per le quali noi siamo particolarmente grati come Commissione ben consapevoli che il primo strumento per combattere le mafie è conoscerle, studiarle, indagarle ed è comunicarle. Perché tutti ne siano davvero consapevoli. Quale strumento migliore di un libro, quale strumento migliore di una storia che ci racconta il passato, che ci racconta il presente, che si costruisce intorno non solo a delle idee ma a delle persone e delle storie vere. Tutto questo per realizzare ciò che ha auspicato il Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento. Per combattere le mafie occorrono a moltitudini di donne e di uomini, di cittadine e di cittadini consapevoli che le mafie sono un attentato grave alla democrazia, alla giustizia e alla libertà del nostro Paese. Grazie. Grazie.